Anche i liberi professionisti potranno accedere, così come le piccole e medie imprese, ai bandi della programmazione dei fondi europei per lo sviluppo e la formazione. Questa è una delle novità presentate nella sede della regione dal governatore della Toscana Enrico Rossi e dall'assessore alle attività produttive Stefano Cioffo. Prima tra le regioni italiane la Toscana ha approvato questa delibera di giunta che fissa i requisiti per l'accesso dei liberi professionisti ai bandi e agli avvisi per le agevolazioni alle imprese del PORFES 2014-2020, un modo per consentire la crescita del settore che rappresenta il 20% del PIL regionale e occupa 148.000 professionisti. La possibilità di accedere darà il modo perché queste strutture, queste società possano trasformarsi, possano migliorare, possano fare innovazioni tecnologiche e dall'altra anche possano fare formazione, quindi investimenti sulla risorsa umana. La regione toscana ha poi deciso di destinare 17.200.000 euro dei 76 messi a disposizione dal PORFES 2014-2020 per la creazione di piccole e medie imprese al microcredito e ai fondi rotativi. Una parte andrà al sostegno delle aree di crisi come Massa Carrara e la Val Tiberina. Sono fondamentalmente interessate la provincia di Massa e Carrara perché 8 milioni serviranno a farci fare gli 8 decimi della strada che dobbiamo fare per arrivare a 10 milioni nell'accordo di programma che abbiamo con il Ministero dello Sviluppo Economico. Già che 10 li mettiamo noi e poi chiederemo di metterne almeno in misura analoga al mese. 2 milioni di euro andranno per la creazione di imprese lungo la via Francigena, altri 2 milioni per la meccanica in Valdera ed infine 5 milioni saranno destinati al resto della Toscana per gli accordi di sviluppo territoriale. Altri 5 milioni e 800 mila euro andranno alla creazione di impresa nel manifatturiero, turismo e commercio. A breve partiranno anche bandi per 11 milioni e 400 mila euro per i prestiti e il microcredito alle aziende già attive. Grazie.